Ritorna l'incubo delle rapine ai danni di anziani nelle case della Bassa Padovana, già teatro nel corso degli anni di molti eventi criminosi di questo genere. Stavolta è toccato ad Alda Ferrato, 74enne di Solesino. La banda ha aspettato che i negozi del quartiere fossero chiusi e che non ci fosse più nessuno per strada. Poi è accaduto questo. Ha sentito un botto sulla porta di entrata, è andata subito verso la porta e si è trovata davanti il monsignore capucciato con il berretto e la sciarpa e subito mi ha come un po' reagito, chi sei, cosa vuoi. Siamo i carabinieri, siamo i carabinieri. La 74enne non c'è cascata e ha cercato di spingerli fuori casa e a questo punto è scattata la violenza. Uno dei malfattori l'ha presa per un braccio e l'ha scaraventata a terra inchiodandola con il suo peso. Ha cercato di farlo uscire, ho detto no voi non siete i carabinieri, uscite da casa mia. Solo che quando è arrivata sulla porta ce n'era un altro. Quindi hanno forzato in due e sono riusciti a entrare. Uno l'ha immobilizzata e l'altro gli ha preso tutto l'oro che aveva addosso. Intanto uno dei componenti della banda ha buttato all'aria cassetti e armadi al primo piano alla ricerca di preziosi e denaro. Nel sacco sono finiti 200 euro in contanti e monili vari, oltre agli anelli che l'ha ferrato portava addosso e al suo collier. E nel frattempo finché succedeva questo è entrata un'altra persona, è andata su delle scale, è fatto il piano sopra, ha rovistato dappertutto e quello che ha trovato ha preso. E tutto in 9-10 minuti non di più. Il blitz è terminato in una manciata di minuti, poi gli autori del colpo se ne sono andati e la vittima ha potuto chiamare i soccorsi. Una volta l'ha presa perché è stata un po' anche immobilizzata, perché ha cercato anche un po' di reagire, diciamo, alla situazione di istinto, è venuto un po' di reagire con queste persone. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della Compagnia di Este, che in passato sono stati in grado di rintracciare e arrestare gli autori di diverse razzie ai danni di anziani soli.